studenti scuole e imprese da oggi possono contare su uno strumento unico il registro nazionale per l'alternanza scuola lavoro per sostenere il diritto degli studenti di imparare lavorando e far crescere le loro competenze nel mondo del lavoro sei uno studente vai su scuola lavoro punto registro imprese punto it cerca l'esperienza più vicina ai tuoi interessi e segnala alla tua scuola chi vorresti contattare ogni studente ha diritto ad almeno 400 ore di percorsi di alternanza nel mondo del lavoro da effettuare negli ultimi tre anni degli istituti tecnici e professionali e 200 nei licei sei una scuola su scuola lavoro punto registro imprese punto it puoi trovare le proposte più adeguate alle esigenze dei tuoi studenti in linea con l'offerta formativa della tua scuola per aiutarli in una scelta consapevole del loro futuro sottoscrivi le convenzioni e realizza collaborazioni con chi offre percorsi di alternanza sei un'impresa un ente o un professionista iscriviti su scuola lavoro punto registro imprese punto it per far crescere le competenze dei ragazzi e dare loro l'opportunità di apprendere sul campo cosa serve ad un'impresa sottoscrivi una convenzione con la scuola che ti sceglie offrire periodi di alternanza significa investire a lungo termine sulla propria azienda diventare un luogo di sviluppo educativo e professionale dei giovani e dare una lezione di professionalità alla società intera il registro è realizzato dalle camere di commercio una garanzia di trasparenza affidabilità e semplificazione partecipa anche tu a far crescere professionalmente il nostro paese l'esperienza è il primo passo Grazie per la visione!